com'è il passaggio? sembrava... no lo fanno al volo poi questo normalmente faceva anche gare l'ho visto abbastanza tranquillo non l'ha trovato molto difficoltoso sono troppo nervoso allora eh ma sicuramente non sarà perfetto sicuramente perché scenda dalla sella andiamo un po' più bravo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.